L'evento di oggi deve essere un'importanza particolare anche in un ambito più specifico quale quello dell'architettura e quindi della conservazione dei beni culturali e l'intervento che ho presentato oggi in questa sessione proprio dedicata ai beni culturali aveva l'obiettivo quello di presentare le potenzialità dell'utilizzo dei sistemi digitali interattivi nell'ambito dei beni culturali. In particolar modo ho presentato una relazione che proponeva gli esiti di un lungo lavoro di ricerca qui in cooperazione tra l'Università Juve di Venezia e l'Università di Padova e dedicato proprio alla ricostruzione digitale e quindi alla creazione di un modello virtuale esplorabile dalla chiesa del complesso degli eremitani a Padova e portare un modo concentrato sulla ricostruzione degli spazi rappresentati all'interno del ciclo degli affreschi della Cappello Vetari realizzati appunto da Mantegna e l'estore di San Giacomo.